Registrazione video da Ukitel K4000 Pro, facciamo lo zoom digitale 4x davanti a noi, non zoom più di questo, facciamo un rapido movimento, cambio di luce di messa a fuoco, ok, più o meno facciamo un tap to focus per essere sicuri, di nuovo all'infinito, registrazione video Ukitel K4000 Pro.